parte numero due della storia di bastian personaggio creato dallo scrittore tedesco michaelende anche questa volta il bambino è aiutato nelle sue avventure dal drago volante falcor e dal piccolo cavaliere atreiu al servizio del bene l'amuleto dei desideri lo porterà di nuovo al cospetto del gigante mordiroccia che nel frattempo è diventato padre arriverà anche al castello di korok e avrà la meglio sulla maga kaide grazie